Oltre ad essere un elemento di spicco del clan Polverino, attivo a Marano di Napoli e nei comuni limitrofi, gestiva per conto del BOS un traffico internazionale di stupefacenti tra la Spagna e il Marocco. Al termine di articolate indagini, i carabinieri della locale stazione, guidati dal maresciallo William Salvatore, unitamente ai colleghi della compagnia di Piedimonte Matesa, gli ordini del capitano Salvatore Vitiello, hanno rintracciato e arrestato ad Ailano, piccolo centro dell'alto casertano, Andrea Gagliardi, 35enne, con diversi precedenti penali. L'arresto, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, ad opera dei militari dell'arma, è uno di quelli che si possono definire eccellenti. Gagliardi, sposato con Prole, come si diceva, oltre ad essere il referente del potente clan Polverino, trattava grossi quantitativi di hashish, che venivano importati ed esportati da e verso la Spagna e il Marocco. Probabilmente l'idea di vivere Ailano lo faceva sentire sicuro, sia per eventuali controlli ed anche per tenere sotto controllo i nemici giurati dei Polverino. Curare un business in un paese dell'alto casertano, tranquillo e balzata alle cronache per questioni rilevanti, faceva sì che Gagliardi si muovesse in totale libertà. Ed invece così non è stato, perché i carabinieri del luogo, a seguito delle indagini avviate dal nucleo investigativo di Napoli, hanno posto la parola fine agli affari illeciti del bosso emergente. Ora Gagliardi è stato tradotto in carcere, ma le indagini proseguono spedite anche per verificare se lo stesso avesse in qualche modo messo mano alla gestione di ulteriori traffici illeciti sviluppatisi nell'alto casertano.